allora ragazzi sono di nuovo al decathlon perché ieri mentre scendevo ho preso un enorme buca e ho ammaccato tutti e due i cerchi questo è il cerchio anteriore come vedete qua è ammaccato e anche il cerchio posteriore forse quasi nota un po meno però è ammaccato anche qua ragazzi ora vediamo se l'assicurazione di decathlon funziona e mi aggiusta di nuovo la bicicletta più in là vediamo come andrà ragazzi adesso lasciamo la bicicletta eccoci qui sono di nuovo a decathlon sette camini perché mi hanno detto che sono arrivate le mie ruote c'è stato un piccolo problema ma vediamo come hanno risolto ragazzi entriamo eccola ragazzi scusa ma le ruote eccole qui e che mi ha dato le ruote nuove mamma mia ragazzi mi hanno dato le ruote nuove queste sono un po meno performanti rispetto le mie perché decathlon non ha più queste ruote ormai sono tutte con i freni a disco ragazzi però queste qua sono le cosmic elite ust finalmente posso montare i miei tubeless che in questi qua appunto non li potremmo montare perché ha i nipeless all'interno poi ho fatto un video magari lo metterò qua in descrizione quindi ragazzi queste ruote rimangono a me in più mi hanno dato due ruote nuove di zecca cosa posso dirvi l'assicurazione decathlon funziona ragazzi e funziona come quindi se andate un decathlon la prima cosa da fare ragazzi fate l'assicurazione io ho preso sta buca ho rovinato due ruote non esiste in italia un qualsiasi negozio che vi fa l'assicurazione per i danni accidentali questa è un'ottima cosa che ha decathlon quindi quando andate da decathlon mi raccomando fate l'assicurazione per questo video è tutto io mi riprendo la mia bici prendo le ruote nuove e vado via se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su accendete la campanella ma soprattutto iscrivete al canale e gratis ciao ciao